Wolf, storie che contano, il podcast di cui non sapevi di aver bisogno. Guardare questo podcast non vi renderà automaticamente ricchi. Ciao amici di Wolf, benvenuti a una nuova puntata. Ospite con noi per questa puntata speciale, Carlo Cracco. Grazie, ciao a tutti, buongiorno. Allora, questa è una sfida difficilissima per me. Perché? Perché ti ho già intervistato, devo riuscire a fare una puntata diversa rispetto a quella che ho fatto. Siccome Wolf ha un taglio più imprenditoriale. Allora, convincimi a investire nella ristorazione. Non farlo mai. Sai che ti volevo dire la stessa cosa. Ti racconto una storia. I miei genitori, a un certo punto, licenziano la mia mamma quando ero piccolo. Piccolo, avevo 16 anni. E con i soldi della liquidazione di mia mamma, i miei hanno questa geniale idea. Avevamo due opzioni. O comprare un'edicola. Non so perché erano... No, era un'edicola. Però spaccava. A me piaceva sotto la metro che ti sveglia la mattina, vendi i giornali. Oppure comprare, cioè prendere la licenza, perché poi la liquidazione non era... Prendere la licenza del bar, no? Prendere un bar. E hanno questa cazzo di idea di prendere un bar. E io mi ritrovo a fare un mestiere che... Cioè, che se non ti piace oggettivamente... È difficilissimo. È orribile. Perché immagina una persona che non gli piace il contatto con le altre persone. A svegliarsi tutte le mattine. Dover essere sempre sorridenti, disponibili. Infatti non ero così. Strano. E facevo delle cose terribili, che non posso dire. Poi dopo hanno... E lì ho capito che la ristorazione, il bar, che comunque siamo lì, no? E ti deve proprio piacere. Perché è una vita che ti consuma oggettivamente, no? Io lo faccio da 40 anni. E ma quando hai detto, hai capito... Più che quando hai capito che era la tua strada, c'è mai stato un momento in cui hai detto ma sai che forse è troppo pesante per me? No. No, quello no. Non ho mai... Non ho mai pensato che fosse pesante. Il problema è sempre gli altri, no? Perciò quelli che ti circondano. Perché per me è la mia vita. E quindi non... Cioè io non trovo pesante dover avere il sorriso dover star lì fino all'una, due di notte mattino ti alzi presto, di nuovo... Però lo chef non mi deve avere sempre il sorriso. No, ma infatti io non è che ce l'ho sempre avuto. Infatti non è che sei famoso perché... Per il tuo sorriso, diciamo. Però si matura poi, poi si matura. No, no. Va bene, ma sicuramente nella prima fase ero molto più... ero molto più concentrato, no? Ma più che... Non è che ero più concentrato. È che eri abituato a un mondo, comunque, diciamo, il nostro è abbastanza difficile, duro. Duro. E quindi ti attrezzi. E per attrezzarti cosa fai? Metti corazze, scudi, eccetera, eccetera. E quindi alla fine non te ne accorgi, ma sei molto più duro. E infatti quando poi abbiamo aperto il primo ristorante a Milano, in via Vitorugo, la cucina è stata, il tavolo in cucina, dove hai cenato anche tu, è stato il mezzo che ha consentito poi di switchare. In che senso? È di aprire e di non essere sempre... Chiuso nella grotta. No, incazzosi. Perché avevi gente. E quindi non potevi... E quindi avendo gente lì, anche con i ragazzi, il rapporto era diverso. Devi dissimulare. Devi dei piccoli calci degli stinti. No, in realtà ce li davamo i calci, perché non si vedeva, perché si vedeva solamente la parte superiore del busto. Per cui i calci volavano ogni tanto. Ma erano dei calci più... No, come dire, stai attento, no? C'è gente... Certo. Non puoi dire delle cose così, no? Certo. E quindi quella è stata forse la vera chiave di svolta in cucina, almeno per quanto mi riguarda. Certo. Ma tu parti dalla scuola della cucina francese? Io sono abbastanza datato, anche se, insomma, mi difendo, però io sono partito con la vecchia scuola. Alain? Come si pronuncia? Aiutami. Alain? Prova a dirlo tu. E ormai mi hai detto Alain, quindi sarà... Alain è giusto. Ducasse. Ducasse, Tricasse, Tricasse. Ducasse? No, c'era questa vecchia... È Ducasse? Ducasse. Oh, l'ho zecchato. Ducasse. No, io sono partito con Marchesi, per cui negli anni... a metà degli anni Ottanta che sono venuto qui a Milano, dove appunto Marchesi fece questa grandissima rivoluzione nel mondo della gastronomia, nel mondo della ristorazione. E quindi sono partito da lì e da lì poi ho continuato in Francia, perché all'epoca c'era solo la Francia, non c'era altro. Non è che... C'era il Giappone, ecco, forse, se vogliamo. Cioè l'Italia non era... Contemplata? No, eravamo molto indietro. Perché mi diceva che non l'avrei mai detto. Siamo ancora indietro, eh. Cioè tu dici... Parliamo un attimo a livello di... a livello imprenditoriale, no? Cioè ad oggi l'Italia è ancora... A livello di ristorazione siamo... diciamo siamo usciti dalla fase forse un po' più familiare, un pochino, però rimane l'ossatura principale, comunque. Cioè oggi la ristorazione non è che abbia fatto dei passi enormi. Non è anche una questione di territorio. territorio. Cioè ti faccio un esempio, magari dico una cazzata, un Gordon Ramsay... Ramsey. Ramsey, scusatemi. Un Gordon Ramsay, ovviamente essendo più oltreoceano, ha più spazio per aprire più posti, no? Sì. Perché alla fine per rendere scalabile il business devi aprire più ristoranti, immagino, no? Sì, sì. E quindi più territorio hai e l'Italia ovviamente è piccolina. Sì, però non è tanto quello. È più proprio una forma familiare di aiutarsi, no? Una volta il ristorante innanzitutto non esisteva. Esistevano le trattorie e le osterie. Certo. Poi c'erano alcune famiglie, parlo degli anni 60, in cui si sono affermate alcune famiglie molto importanti, vedi, non so, alciati, a costigliole d'asti. Vittorio? Vittorio è già un pelo dopo, un pochino dopo. Il papà sicuramente era già attivo, però diciamo la famiglia vera è arrivata un po' più avanti, poi quando i figli sono cresciuti, che hanno più o meno la mia età. Però diciamo che all'epoca il ristorante era fatto dalla famiglia, per cui c'era la moglie, il marito, i figli, la nuora, l'unizio, il papà, il nonno, c'era un altro esempio che c'è ancora oggi che è tuttora uno dei più validi, è il pescatore, la famiglia Santini. A Milano? No, a Mantua, provincia di Mantua, a Canneto sull'Oglio. E lì, ad esempio, c'è il nonno, il papà, la mamma, poi è arrivato il figlio con la moglie, adesso c'è la terza generazione ed è nata la quarta. Però è bello, dai. È bellissimo, però... Però ovviamente hai i suoi pro e i suoi contro. Hai i suoi pro e i suoi contro, ecco, cioè all'estero questo non... succedeva, è successo in Francia molti anni prima, oggi sempre di meno. Però poi alla fine quello che interessa a me è quello, per cui riuscire a fare dei progetti a lungo termine... Cioè a te non te ne frega niente di fare tipo Gordon Ransmi, non riesco a dirlo, raga, Gordon Ransmi. No, Gordon è bravissimo. Però non mi sembra che sia il tuo viaggio. No, 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 non credo di avere il physique du role per fare quella cosa lì, ecco. Cioè già dopo un po' io devo avere qualcosa di nuovo e mi piace... La routine ti schiaccia? No, non è che mi schiaccia, però ecco, sì, mi piace anche guardare oltre. Ovviamente rimanendo nell'ambito, no, l'ultima cosa che abbiamo fatto è stata la campagna quattro anni fa, che è un progetto lunghissimo un po' come la galleria che però, no, un po' alla volta lo vedi costruire ed è quella secondo me la soddisfazione più bella. Dai, parlamene, nel 2020 tu e tua moglie avete avviato il progetto della tenuta agricola vista mare. Sì. Raccontami un po' che cos'è. Ma no, ma guarda, semplicemente avevamo voglia di prendere un pezzo di terra così non da tanto da coltivare ma così da, diciamo, come rifugio soprattutto negli anni a venire ovviamente non è stato proprio l'anno più giusto per fare non avete azzeccato il tempismo non ottimale non ci ha accompagnati però alla fine è capitata questa occasione vicino a dove è nata Rosa Sant'Arcangelo di Romagna dove è Sant'Arcangelo di Romagna vicino Rimini però nella campagna entroterra posso dire entroterra romagnolo bellissimo esatto conosci Balbonella no vabbè io ho fatto delle campi estivi mi ricordo che i romagnoli nell'entroterra romagnolo va di moda l'apecar modificata al posto del motorino e fanno le impennate con l'apecar si mettono in tre dietro e fanno le impennate che è un classico però per me che sono di città io l'apecar non ho mai vista in vita mia quindi c'è proprio una tradizione completamente diversa e quindi scopriamo questo questo posto magico e ce ne innamoriamo e quindi da lì l'abbiamo acquistato lo stiamo ristrutturando un po' alla volta e ci abbiamo fatto le case per noi c'è la vigna c'è gli olivi per cui abbiamo un oliveto abbiamo l'orto che ci dà una piccola parte ma una buona parte delle verdure che usiamo qui in galleria abbiamo la frutta per cui abbiamo l'abbiamo ribaltata completamente l'idea è di tenere proprio come se fosse solo campagna sì sì cioè quindi no ristorante ci sarà poi farai anche un ristorante no no un ristorante no boutique hotel no faremo un agriturismo una cosa molto più easy però adesso si dice boutique hotel un boutique hotel sono quattro camere eh no è l'agriturismo in francese è l'agriturismo in francese il boutique hotel forse potrebbe essere un'idea il boutique hotel sono poche camere sperse in mezzo alla tenuta e con diciamo però ecco tutto quello che ti serve per rilassarti per cui bellissimo easy si lascia la macchina fuori si entra si cammina bicicletta oppure con macchina elettrica per cui cercando di non invadere di non essere invasivi ma cercando di essere leggeri e abbiamo avviato il progetto del vino per cui da quattro anni da tre anni facciamo il vino e stiamo avendo delle belle soddisfazioni e poi è tutto cioè uno pensa che siano ambiti completamente diversi in realtà poi per fare il vino devi avere delle competenze completamente diverse rispetto a coltivare lì c'è l'enologo no lo so ma infatti dico io ci metto un po' di mio lei ci mette il suo però diciamo che insieme poi con l'enologo riesci a trovare la quadra ovviamente comunque o felefa il tuo mestre vale sempre sì sì sono d'accordo poi ecco la tua idea di come vuoi il vino quella sì quella la puoi mettere la devi mettere no? sì sì che anche quella lì è una cosa di passione pura perché ho conosciuto una famiglia a rocca miseria quelli che hanno inventato sai tipo anche lì generazioni di famiglie italiane che hanno inventato un vino rosso famosissimo ma tu dici Sassicaia? no antinori no 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 antinori grosso scobaldi no più piccolo il Brunello di Montalcino è più piccolo? beh la zona del Brunello non è proprio piccola però è uno dei vini più importanti comunque che hanno inventato questa tipologia di vino ok quindi generazioni biondi santi biondi santi che adesso hanno preso una collina e fanno un vino nuovo sì e mi ha spiegato che per fare il vino nuovo una nuova categoria cioè una nuova famiglia di vini ma ci vuole tipo vent'anni cioè una cosa di pazienza prima che sia buono infatti la nostra fortuna è stata quella di aver trovato la vigna già attiva non era valorizzata magari come la abbiamo stiamo valorizzando noi ma era già attiva e questo ci ha consentito un po' di evitare l'investimento poi di tutto il resto ma raccontiamo un po' di storia di Carlo Cracco allora 95 apri il tuo primo ristorante le clivie a Piobesi d'Alba che si trova Piobesi d'Alba che si trova vicino vicino ad Alba 5 km Regno del Tartufo quindi Regno del Tartufo è Roero in quel caso e lì ci vado perché grazie a una persona molto cara che è Bruno Ceretto uno che fa sempre vino e dico poi alla fine tutto torna tutto torna mi dice guarda se vuoi c'è questa opportunità questa locanda che cedono e non vogliono un piemontese perché? perché una signora ce l'aveva con i piemontesi ma sai vabbè però non vuole un piemontese io ho detto ma ho detto va bene ho detto io non ce l'ho non lo sono per cui potrei andare bene mi fa sì andiamo lì e vediamo ho visto che costava poco e quindi l'ho presa e nel giro di 15 giorni ero già entrato e l'anno dopo tieni la tua prima stella Michelin? sì l'anno dopo sì vabbè beh cazzo in un anno non è facile sì ma sai all'epoca era tutto molto più anche più forse dritto no io venivo già da un'esperienza per cui io prima di essere la fama ti precedeva la tua storia ti precedeva prima di andare all'eclivia ero in un tre stelle per cui insomma voglio dire qualcosina sapevo fare beh certo poi partire da un tre stelle dove avevo avevo 30 ragazzi più o meno e partire da zero e partire da zero con due oh in due in cucina eravamo in due quanti post quanti quanti coperti avevi? teneva circa 35 in due eh sì perché non c'erano mezzi porca troia non è facile 30 coperti in due sì non è facile però se a me piace non è perché sapevo fare quello che facevo prima non posso fare anche il resto certo quindi l'idea mia era di staccarmi diventare indipendente non dover più rispondere a qualcuno quindi dovevi tornare in trincea e quindi dovevi tornare in trincea e la cosa è stata e chi era il tuo secondo? beh uno vabbè in realtà erano più di uno eh allora mi hai dato che eravamo in due eravamo in due a cucinare però all'inizio mi sono portato dietro c'era Luca Cairati c'era Matteo Baronetto che poi è stato con me circa 16 anni eh vedi poi diventando i matrimoni immagino diventando i matrimoni e poi c'era un ragazzo in sala pensa a te e loro due sono stati proprio la parte più importante allora io siccome ti ho già intervistato so la tua posizione rispetto alle stelle Michelin che credo sia un po' la posizione di quasi tutti gli chef ma è la guida più importante al mondo sì 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 certo però vabbè lo dico io lo dico io perché ti dovevo mettere in bocca mi sembra che è cambiato nel tempo no? cioè che ovviamente cambia è cambiata tantissimo basta pensare che una volta quando ti davano la stella ti chiamavano al telefono tipo toh tieni ed era finita lì e quindi tu ti ricordi oggi 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 c'è un palcoscenico no? ma tu ti ricordi quando ti hanno chiamato la tua prima stella? cioè è stata ti sei gasato o proprio non te ne fregava niente? no 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 ti gasi ma non è una cosa di cui ti dovevi vantare per cui era una cosa normale cioè hai lavorato bene è arrivato un risultato beh un bicchiere di vino per festeggiare avrete bevuto sì forse una bottiglia però no ma era normale no ma perché la testa non era su quello hai capito? la testa era nel fare bene nel fare bene sul ristorante nel cercare di stare in piedi certo di riuscire a partire da zero e risalire tutta la china certo hai capito? perché la stella poi a livello imprenditoriale in termini economici ti dà conta tantissimo la clientela viene 15-20% in più porca puttana e se ne hai più di una aumenta? eh sì il massimo è 4? 3 3 nessuno mai 4 e magari possiamo inserirlo possiamo chiedergli il massimo è 3 francesi non te la cambierebbero mai esiste da 120 anni il massimo è 3 124 il massimo è 3 sono dei francesi posso farti una domanda? possiamo dire che la cucina italiana è meglio della cucina francese? sì ma possiamo ma ognuno di noi potrebbe dire è soggettivo come mia mamma potrebbe dire che cucina meglio di tua mamma e viceversa ma quello dice poco mia mamma solo i sufficini faceva no ma voglio dire è soggettivo è soggettivo ma la cucina è passione, amore, condivisione tante cose messe insieme capito? cioè non è non è una gara me contro te o io contro lui i francesi e gli italiani un po' se la vivono sta cosa qua io la vivo ma perché siamo molto simili no sì allora forse con i parigini no però ma siamo simili no i parigini ci soffrono io sono stato 3 anni in Francia dai tu non credi che i parigini ci soffrano un po' io stavo da dio ma come noi soffriamo loro sì esatto è una cosa reciproca siamo cugini siamo cugini non ci siamo scelti no e quindi viviamo un po' questa diciamo no questo a volte conflitto conflitto in maniera stupida perché poi in realtà sono i due paesi forse che più di tutto riescono a dare in termini gastronomici e non solo voglio dire hanno una storia anche abbastanza vicina non è così diversa o separata ragione siamo cugini a tutti gli effetti a tutti gli effetti voglio dire venendo da lì la storia è quella non è che possiamo cambiarla no però loro mangiano le lumache e noi no quindi io le ho mangiate ti piace le lumache a me è una cosa proprio raga che non riesco a capire una roba ma non è perché le lumache si mangiavano anche a pavia sì sì non lo so mi interrogo su questa consistenza flaccidognola vabbè è una cosa mia non è importante ma lì è una questione di formazione sì sì beh certo tu sei già sei già un già croccante dice che cose molli vabbè mi hai fatto un sacco di cose io voglio andare subito su una cosa e Carlo Cracco ha una tradizione tu sai che ti porti dietro una tradizione contemporanea che è la che è la polemica di Carlo Cracco sullo scontrino che trovo che sia la polemica più sterile e inutile che ogni anno è proprio una tradizione è come il calendario dell'avvento no ogni anno più o meno verso siccome è verso Natale e verso l'estate un po' cioè o il caffè lo scontrino che secondo me è sempre la stessa foto che gira poi non è uno che cambia è la stessa foto che viene ripubblicata che si lamentano di quanto costa il caffè o si lamentano di quanto costa la pizza o l'acqua o l'acqua allora vogliamo entrare un po' nel merito di questa polemica sterile perché sono sicuro che avrai qualcosa da dire in merito ma no ma io manco 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 li guardo quelle cose lì non cioè se tu vedere io sono in galleria che è l'affitto più alto della città se vuoi venire lì e se tu vuoi prendere un acqua un bicchiere d'acqua seduto per cui servito costa cioè il personale poi dopo si lamentano tutti che il personale non viene pagato non lo paghi abbastanza non lo paghi come cacchio faccio a pagare un personale se poi non riesco a farmi pagare un bicchiere d'acqua quel che costa lo puoi dire quanto costa l'affitto al mese della galleria ma no ma l'affitto all'anno ma no all'anno costa sul milione e due comunque è un costo un milione e due all'anno ecco ma tu lo vedi come un costo per me invece è un valore però devi far tornare i conti non so come dire ma non solo io perché comunque in generale il servizio fatto bene costa purtroppo costa o ci mettiamo a fare il low cost della ristorazione ma non lo puoi fare in galleria e non lo puoi fare servito riverito e magari ti lamenti pure che ho trovato un'impronta sul tavolo voglio dire la ristorazione ha dei costi purtroppo molto alti perché io non ho ancora visto nessun ne ho visti pochi di cuochi arricchirsi Gordon Ramsay ormai sono fissato siamo già usciti dall'Europa Bastianich che però non è Bastianich è più imprenditore siamo sempre fuori italiani in effetti è l'angosteria sì però l'hanno esternalizzata cioè l'hanno resa però è un altro è un altro mood anche è una società comunque credo sia il VMH sì però è ancora giovane se vogliamo è recente sì è vero cioè non ci sono degli esempi per cui voglio dire sto mestiere qui è un mestiere difficile un mestiere impegnativo ma è il mestiere più bello del mondo secondo me perché ti permette di stare a contatto con persone diverse parlo anche in cucina non solamente la parte esterna i ragazzi crescono hanno una formazione se tu oggi vai in Francia te lo dico perché lo so veramente bene oggi in Francia trovi non so quante migliaia di ragazzi italiani che lavorano in cucina quando c'ero io eravamo credo in cinque in tutta la Francia forse eravamo una decina ma non credo di più oggi ce n'è migliaio e sai perché? perché loro ci considerano bravissimi meno di quanto ci consideriamo bravo noi ci svalutiamo sempre capisci la differenza e oggi un ragazzo che vuole andare avanti perché deve stare qui? dice vado dove mi valorizzano di più ma certo e quindi abbiamo poi quel problema ma noi viviamo di turismo il nostro è un paese per il turismo per cui noi dovremmo valorizzare e cercare di raccogliere e di aiutare il settore e invece colpa anche nostra mi metto in mezzo anch'io non siamo in grado di fare quel salto non siamo in grado proprio di di l'angosteria è uno dei pochi casi forse che riesce a diciamo ad alzare il livello e a partire da una piccola realtà a fondersi con una realtà gigante e fare un gruppo e fare anche dei progetti perché io sono stato l'angosteria credo abbia se Moritz è bellissimo a Parigi inizia un progetto che e cazzo non ti viene volcare secondo me lo faresti così ma non è la tua cosa vero? non è la tua cosa magari arriverà non lo so però ti dico poi io dico sempre l'importante è che ognuno riesca a realizzarsi no? perché se tu ti realizzi e sei contento sei felice il resto cioè voglio dire sì è una passa non so come dire no? cioè l'entusiasmo io quando adesso il ristorante è chiuso in questo momento no? per ferie cioè che fai? no vado in giro però ti senti no no però mi manca eh beh certo perché vedere il ristorante chiuso comunque per me rimane un po' un controsenso hai capito? certo poi ovviamente devi chiudere bisogna dare modo di riposarsi e di fare tutto però per me è sempre una difficoltà no? vedere il ristorante chiuso perché tu dici ma non potremmo fare qualcos'altro tu oggi hai ristorante in galleria a Portofino a Portofino bellissimo basta basta e vabbè poi dopo c'è Vistamare progetto Vistamare agricola poi abbiamo abbiamo fatto un pop up alle Maldive sempre con Portofino stiamo apriremo quest'anno a Roma ah dove? in Piazza del Parlamento Piazza del Parlamento è dove c'è il Parlamento immagino dietro però dietro ok la parte è dietro e apriremo lì e sarà un bel progetto e beh cavoli molto bello molto sfidante anche perché insomma quanti coperti? eh tanti perché siamo all'interno di un hotel ok quale? il Corinzia Hotel il Corinzia? sì una piccola catena e aprirà questo nuovo hotel molto bello nell'ex palazzo della Banca d'Italia per cui un edificio storico molto importante credo abbiano fatto delle rapine famose allora in quel posto vabbè scusate non lo so sai che credo non credo perché questo è il primo eh ah ok ok il primo palazzo ok può essere e e lì seguirò tutta la food and beverage per cui tutta dalla colazione del mattino fino a tutta la ristorazione c'è ho notato che a Roma c'è proprio un boom dell'apertura di hotel stanno aprendo beh Roma una quantità di hotel Roma è a grandi opportunità eh ma è è come se ci potrebbe crescere tantissimo sì Roma è vabbè stupenda sì c'è un mio amico io quando vado a Roma i Fexperience li conosci no? è una una start up di miei amici credo anche i tuoi amici che sono dei grandi esperti d'arte no? quindi ogni volta che io vado a Roma vado a visitare Roma e non finisci mai di di scoprire cose nuove no? c'è sempre qualcosa e e Filippo mi dice sempre guarda Roma è bellissima ma non è una città fatta per vivere la modernità cioè non è costruita per le per le automobili cioè non ha sì sì tutto ciò che è oggi il mondo è incredibilmente complesso mentre forse a Parigi facendo il parallelismo con i francesi hanno meno cose e le riescono a valorizzare di più è come se a Roma ci fosse troppa roba e non sai come gestirla no? no c'è tantissimo e e viene diciamo poco valorizzato no? e quindi diciamo che poi le opportunità fanno crescere perché poi Milano è stata fortunata merito di merito di persone che ci credono merito di chi lavora merito di tutti però Roma in proiezione dovrebbe essere dieci volte parca miseria ecco potrebbe essere dieci volte perché con quello che ha con quello che attira con quello che possiede potrebbe veramente diventare non voglio dire cazzate ma sempre il mio amico Filippo mi diceva che Roma detiene il 60% delle opere d'arte mondiali non vorrei dire una cagata però una proporzione diciamo una fetta abbastanza ampia se non è il 60 sarà anche pure il 40 ma è una città sì sì però è una parte preponderante delle opere artistiche mondiali sono concentrate in un'unica città c'è proprio la culla della civiltà in qualche modo e sarebbe bello riportare io ci credo perché comunque a me piace il progetto è molto bello ho un bel management che ci sta dando una mano una bella squadra bella figata sì un bel progetto vedi che non sto mai fermo no no ma bravo bravo e voglio fare un salto in avanti perché a un certo punto tu dalla cucina esci fuori dalla grotta mettiamo così e approdi nel mondo televisivo e come dicevi prima io credo ti abbia aiutato anche un po' a scioglierti perché inizialmente avevi l'immagine del burbero del cattivo che è un po' anche la cifra diciamo di Masterchef che devi un po' bastonare lanciare le cose vessare i concorrenti ma in realtà non li vessavamo no vabbè vessare in senso goliardico del termine non in senso letterale era diciamo un atto dovuto ma non era non era ad oggi uno dei format che ancora funziona nella televisione io ricordo una cosa io ricordo un monologo di Crozza a un certo punto quando Masterchef quando Masterchef diventa culto un cult della televisione e quindi Carlo Cracco diventa una star televisiva un personaggio popolare no? e c'è questo monologo di Crozza in cui Crozza dice guardate Carlo Cracco che mi viene dall'alta cucina mi fa lo spot delle patatine proprio un discorso e io siccome ho avuto già modo di intervistarti a Muschio Selvaggio e ti chiesi proprio di questa cosa io nessuno riesce a capire che cosa c'è dietro anche a delle scelte commerciali che uno può vedere come ah si sta vendendo ah sta rinnegando se stesso e invece raccontami un po' il ragionamento che c'era dietro ma se il ragionamento è molto semplice io innanzitutto avevo in testa di far la galleria e quindi quando io poi entro in modalità sfida divento insomma bello tosto e quindi dovevo cercare da un lato di valorizzare tutto quello che stava succedendo e dall'altro lato cercare di pensare a un domani e quindi pensare a quello che sarebbe stato un domani io al contrario ad esempio di Bruno che invece diciamo è più sulla parte televisiva e meno sulla parte operativa per me era il contrario io ero prestato la televisione ma il mio lavoro rimaneva sempre quello del ristorante quindi avevo voglia di cambiare di uscire da via Vittorugo di spostarmi insomma avevo questa necessità e quindi quando hai l'obiettivo e vuoi farlo da solo non vuoi trovare soci devi trovare i soldini per finanziarti devi vendere ma che cosa c'è di male è veramente una retorica però secondo me è un po' il ragionamento che tu dici siamo un po' indietro perché il ragionamento del cavoli vedo una persona che ha la sua storia che sta la mentalità americana da cui io prenderei veramente pochissime cioè dalla cultura americana prenderei pochissime cose l'unica cosa che prenderei è proprio il ispirarti l'approccio no ispirarti alle persone di successo e non incazzarti per le persone che ottengono successo e e cercare di buttarle giù capito ma c'è tutto un pensiero dietro che la gente si fa ed è convinta di aver la verità in mano poi in realtà io ho sempre cercato di di mirare all'obiettivo finale no il mio obiettivo finale era quello di muovermi di spostarmi e l'ho raggiunto per cui guarda sì sì però secondo me ha senso parlarne perché se vogliamo anche cercare di portare un punto di vista diverso rispetto a la retorica solita del paese cioè dire ragazzi ma Carlo Cracco che fa la pubblicità delle patatine ma che cazzo di fastidio vi dà ma se questa cosa serve per finanziare dei progetti ma anche se servisse solo per arricchirsi ma che cazzo di problema c'è purtroppo è un po' fa parte di quella parte che dicevamo prima che non è mai cresciuta un po' campanilista è rimasta ancora indietro no e non c'è questa visione invece di di andare avanti di far crescere di avere un obiettivo che invece secondo me è la cosa più bella ma sia come persona che come anche diciamo come modello da seguire come opportunità i ragazzi io tutti i ragazzi quando mi dicono parto e vado da solo e dico bravo vai sarà durissima devi tenere duro per un po' di tempo perché ti sembrerà difficile impossibile eccetera poi dopo superati le prime difficoltà poi ci riesci perché prendi le misure cominci a capire ti adegui come sei in gamba ce la puoi fare alla fine ci riesci vedi Matteo ma ce n'ho mille di esempi io ho trovato nella tua cucina non so se lavora ancora alcune persone che venivano da Hell's Kitchen no? sì sì ma ce n'è poi che sono messi per conto proprio oggi hanno due ristoranti che nessuno lo sa ma forse Masterchef è più da amatore mentre Hell's Kitchen è più per chi più professionale però era un format anche quello bello perché io mi divertivo un sacco perché era talmente esagerato sì sì che ridevamo tutti però era un format troppo stretto no? perché? cioè perché secondo me noi siamo diversi io non sono americano e non sono Gordon e quindi uno dei momenti più belli di Hell's Kitchen in America è Gordon che bestemia in italiano in una puntata che ovviamente in America non è stata censurata perché non sono consci di cosa sia una bestemia c'è Gordon che gli fa fammi non so se era un piatto italiano e bestemia un porcone gigante bellissimo ma però devi farlo anche tu cazzo ma non mi viene purtroppo non so non riesco non mi viene sì la cifra in effetti è quella la cifra è quella è esagerazione però però secondo me quello era un bel metodo cioè i ragazzi lavoravano veramente e crescevano e potevano avere un'opportunità e con tanti siamo ancora in contatto ogni tanto ne vedo qualcuno ci ritroviamo insomma capita poi ovviamente però non può rimanere sterile sempre fermo lì è questo che a me è un po' dispiace perché perché secondo me invece ogni format poi alla fine deve evolversi si deve modificare e adattare a quello che sono anche i tempi adattare i tempi alle culture perché esatto faccio l'esempio di LOL che non c'entra niente il successo di LOL funziona perché in ogni paese la comicità appartiene alla propria cultura è ovvio che la comicità giapponese ha una cifra la comicità italiana ne è un'altra quella americana un'altra ancora quindi è riuscire a essere bravi ad adattare i format e a svecchiarli ma anche lì televisivamente credo che proprio a livello mondiale siamo in un periodo di stagnazione in cui soprattutto in Italia ragazzi abbiamo gli stessi format da 30 anni e non cambia niente in questo paese che è un po' se ci pensi è un po' ha i suoi pro e i suoi contro anche questa cosa qua perché se in America ottieni successo c'è un cambio talmente veloce che hai mediamente tre anni di tempo per sfruttare l'onda mentre in Italia è talmente tutto lento che se ottieni successo una decina di anni te li fai sereno capito però però ecco anche quella cosa lì ti fa capire come ribaltandolo all'indietro perciò nel nostro lavoro siamo rimasti indietro rimaniamo indietro abbiamo dei bellissimi esempi sulla ristorazione diciamo quella più semplice tipo le piadinerie tutto quel mondo lì il fast food il fast food o il cibo di strada sì sì come si chiama il fast food all'italiana il cibo di strada street food come si chiama adesso il fast food noi non ce l'abbiamo che però è un modello di business più semplice perché ha i costi ridotti personale ridotto servizio molto meno alto e quindi lì è più facile apri uno ne apri 30 50 è più facile no no non sto dicendo che lo possono fare tutti però però diciamo idealmente è più semplice da scalare a noi ci viene meglio sì è vero è vero però per esempio in televisione noi siamo tra i più bravi a produrre no in che senso vabbè nelle produzioni televisive io mi ricordo anche con Masterchef noi avevamo segnato quel tempo e dall'estero venivano tutti compresi gli americani succedeva uguale con X-Fact a vedere cosa facevamo cosa facevamo anche da voi perché lo facevamo in quel modo e io capivo almeno perché poi non era il nostro mestiere ma è la produzione che invece dall'altra parte c'era una competenza enorme ma enorme ma grandissima molto più di quello che è il format o l'idea è vero beh sì quegli anni lì ed è la stessa cosa in cucina noi siamo bravissimi perché abbiamo le potenzialità di fare ma non ci rinnoviamo ma non riusciamo a metterle a terra e a fare un sistema se pensi che se lo puoi traslare in tutti i settori allora il risultato è che probabilmente è proprio un fattore culturale se ci pensi sì probabilmente è anche un fattore culturale però mi fa strano con i tempi che sono cambiati che stanno cambiando come non si riesca a ritrovare quell'energia quella voglia quella creatività che invece ci contraddistingue noi non siamo passisti siamo sempre stati molto più energici creativi anche di rottura ma non riusciamo a proprio a emergere ad andare oltre e sportiamo tutto andiamo fuori andiamo fuori perché facciamo diventare bravi gli altri e per avere successo devi tornare vincitore in pace a triade all'est ti fa riflettere io quello che cerco sempre anche con i ragazzi di far capire di lavorare oltre a lavorare in cucina e di non essere mai uniformati a quello che va oggi perché quello che va oggi va oggi non sappiamo se andrà per quanto tempo andrà e quindi sempre essere aperti guardare sempre indietro perché comunque guardare indietro ti fa capire e ti fa ricordare anche certi passaggi fondamentali e poi cercare di essere aperti ad accogliere e integrare tutto quello che arriva perché comunque lì c'è la linfa sì credo che poi funzioni cioè è interessante questo discorso perché secondo me si sposa benissimo con tantissimi settori cioè è come quello della musica quando va va un genere musicale se vuoi emergere a mio parere devi fare l'opposto di quello che va in quel momento se vuoi emergere non puoi fare la cosa che va di moda in quel momento a meno che tu non sia quello che ha reso di moda quella cosa lì no? e quindi fare l'opposto di ciò che il trend ti impone secondo me è la chiave per emergere inizialmente poi prendi la tua scia e trovi la tua la tua chiave devi crederci devi girare tantissimo a me la cosa che piace tantissimo ancora oggi è girare vedere capire assaggiare mangiare di tutto dalle rane i testicoli del toro fai un format dove ti mangi le schifre no l'ho già fatto sì l'ho già fatto è un format lo sperma di cavallo come format è già morto è chiuso hai delle idee ti è venuta l'idea per un format televisivo che non è mai andato in porto non te ne frega un cazzo te la televisione c'è il dinner club dinner club siamo riusciti a metterlo a terra molto bello ed è quella è stata una bella soddisfazione perché riuscire a parlare di cucina riuscire a vedere cucinare ma allo stesso tempo raccontare anche delle persone una storia un format molto molto bello vero quella è la cosa molto bella beh i libri fa parte della 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 parte anche ovviamente televisiva solo televisiva cioè non fa parte della storia di uno chef pubblicare libri sì però diciamo che ne ho fatti tanti c'è una parte diciamo più professionale più riservata agli addetti i lavori cioè fammi capire beh quelli le ricette quelle proprio del menu sì ma anche la filosofia il modo i passaggi il momento in cui lo fai segna insomma sempre un momento no mentre poi tutti gli altri che abbiamo fatto durante il periodo televisivo erano più diciamo uno sdoganamento del libro tradizionale cioè dei tuoi lavori ma commerciale per tutti certo fruibile per tutti che hanno avuto un bellissimo successo eh beh sì quanti si venderanno un sacco mi ricordo il libro più venduto quando ero giovane io nel 2012 era il libro di ricette di Benedetta Parodi quando faceva un format di cucina credo era il libro più venduto in Italia e sempre state donne tra invece quest'anno vannaccia allora un sacco di star hai cucinato per un sacco di star sai che io ho conosciuto Kanye West nel tuo ristorante tu non lo sai perché non c'eri non c'ero però dimmi la persona che proprio hai detto mi hanno avvisato in cucina che c'era questo personaggio e un po' mi sono emozionato a cucinare per questa persona ma a parte Fedez ovviamente allora no no la cosa più bella ultimamente è stata con Patty Smith wow che è venuta qui? sì sì qui in galleria e alla fine del pranzo perché era un pranzo mi ha mi ha fatto l'adattamento della sua canzone mettendoci dentro quello che aveva mangiato ma pensate una cosa io sono rimasto avevo i brividi bellissimo ed eravamo proprio in quattro era lei con due due ospiti io sono andato a salutare volevo andare non ho nemmeno chiesto la foto perché non mi piace rompere e stavo per andare e mi fa no no aspetti un attimo e io ho detto no ho detto ma vi lascio tranquillo tanto insomma e mi fa no no perché Patty voleva voleva cantare una cosa e la madonna ma che roba io ho detto fai spegnere la musica e si è messa a cantare a cappella senza musica sì sì così e cioè e ha riadattato il testo di una canzone col menù che ha mangiato ci ha messo dentro i due piatti ma poi ha detto anche il nome però insomma in maniera no ma fantastico che tocca è una cosa che mi ha colpito bello tu sai io adesso che ci penso ho un sacco di ricordi della mia vita legati al ristorante di Cracco e tu nemmeno lo sai forse cioè vabbè no vabbè una volta vi racconto questo una volta ho litigato con mia moglie in maniera pesantissima ok pesantissima e ero con la mia assistente che qua in macchina e faccio ok dovevo fare qualcosa per sistemare questa situazione e allora chiamo Carlo e dico Carlo io stasera ho bisogno di una roba pazzesca cioè devi devo devo a un certo poi mi ha organizzato questa cena pazzesca ho trovato un violinista della scala che suonava Ed Sheeran ma che non sapeva Ed Sheeran e l'ha dovuto imparare la sera stessa il pezzo che piace a mia moglie è perfect è stato molto bello invece un'altra cosa che non sai quando mi hanno operato per il cancro io divento amico del bassista dei Blink 182 che è la mia band è come se fosse per te Patti Smith per intenderci perché anche lui ha avuto una leucemia importante e quindi iniziamo a messaggiarci mentre io sono in ospedale poi a un certo punto lui mi dice io vengo in Italia perché doveva andare al matrimonio di Travis Barker con la Kardashian a Portofino che credo tu abbia cucinato per loro no no però eravamo attaccati eravamo attaccati vabbè quindi doveva andare a Portofino allora dice vengo a Milano un giorno gli dico ok allora inizio a preparare gli faccio che dove cazzo lo porto cazzo lo porto lo porto in un ristorante di cui non farò il nome perché magari il concorrente di Carlo sempre l'induomo poi gli dico però dopo ti porto da Carlo Cracco e lui mi fa what is e mi ricordo che la chiamava il tuo ristorante lo chiamava Crack House perché non riusciva a pronunciare il nome ma Crack House in americano significa la casa dove si fuma dove si fuma il crack e quindi per noi per noi tu sei la Crack House per me e Mark House non è male potrebbe essere una seconda vita esatto la Crack House Carlo Crack così no comunque è incredibile come poi nascono delle storie che tu nemmeno lo sai sono luoghi dove avviene una magia e che lasciano dei ricordi indelebili e sono cose belle sì sì ma sono sono momenti che uno poi si gode e quando sono condivisi perché poi quando hai dall'altra parte una condivisione la soddisfazione è più grande poi tutto il resto proprio scivola è vero è vero è vero beh dimmi un posto dove ti piacerebbe abbiamo detto Milano Portofino Roma dove mi piacerebbe aprire dimmi tre tre posti nel mondo dimmi un posto italiano e due nel mondo un posto italiano è facile potrebbe essere la Sicilia piuttosto che in montagna anche se poi dopo rischio di perdere un pezzo di non ti piace la montagna di femmili non ti piace la montagna solo i colli romagnoli da mare da mare però no ma anche Napoli stessa a me piace tantissimo Palermo bellissimo Palermo molto bello cioè ci sono delle città meravigliose dove dove sarebbe bello anche aprire qualcosa di diverso poi in giro per il mondo guarda non non faccio fatica da nessuna parte no però è un sogno no guarda forse la cosa che meno pensavo era aprire le Maldive ed è capitata per un allineamento di pianeti che non si capisce ed è stata un'esperienza bellissima tra l'altro e quindi ti dico potrebbe essere l'America però non so se poi sono in grado di adattarmi difficilissimo di vivere tutto questo cambiamento ecco i pro e i contro per esempio magari mi sbaglio però da fruitore che ha vissuto per un periodo in America ho notato una cosa della ristorazione americana che è tutto fatto a trend cioè tu sei il ristorante del momento per tre mesi e letteralmente tutti vengono da te per tre mesi il mese dopo non esisti più cioè passano all'altro ed è un continuo susseguirsi però poi dopo devi essere bravo tu a fissare ovviamente ci sono i golem insostituibili cioè che cosa c'è e lei c'è non mi viene in mente però mi ricordo che se io oggi andassi a lei al ristorante in cui andavo io quando è nato mio figlio probabilmente non esisterebbero più sì c'è molto più c'è molta più dinamicità però se tu esci se vai in giù in bassa California vai in Napa Valley ad esempio c'è tutta un'altra è un'altra America una cultura molto diversa in effetti io ragiono su LA New York che non è America è più un'altra cosa è un po' diciamo un'esasperazione mentre se già esci un po' è molto bello però ti dico ho avuto cinque anni in ristorante a Mosca ah è vero è vero ho avuto per cinque anni io mi ero trovato benissimo poi ovviamente sì non è che vivi la città ecco io andavo per lavorare per cui certo era abbastanza limitato però però è stata una bella esperienza soprattutto ecco quello è un mercato uguale identico a New York velocissimo cambia velocissimamente però mi par di capire che se ci entri dentro è un bel mercato importante come credo gli Emirati molto importante è vero negli Emirati non ti è mai venuto in mente anche lì è una bella lotta anche lì un sacco di italiani che lavorano nella ristorazione e poi lì ancora c'è ancora un sacco di fermento che sta arrivando c'è tutta la parte nuova Dubai Abu Dhabi Arabia Qatar eccetera lì c'è la nuova America eh lì stanno cercando di non so se è un ragionamento giusto ma credo di aver intuito che avendo capito che il petrolio non sarà più il loro oro stanno cercando di convertire tutto sul turismo avendo molto meno di quello che abbiamo noi oggettivamente cioè no vabbè hanno qualcosina in meno beh Dubai Dubai non è proprio una fetta cioè Dubai fino a 30 anni fa era deserto credo no non c'è niente però è ovvio è un modo per diciamo per attrarre per far vivere anche diciamo far crescere quel territorio che può crescere solamente attraverso quelle operazioni lì hanno messo il Louvre hanno il vantaggio di avere una temperatura mite spazi larghi spazi enormi soldi hanno fame e vogliono fame secondo me non ce l'hanno hanno soldi da spendere hanno fame nel senso non fame esatto quella secondo me non ce l'ha diciamo alimentare ma fame fame di affermarsi sì sì questo è vero questo è vero tu pensa se noi riuscissimo a prendere da queste culture la voglia di affermarsi con la storia che abbiamo noi sarebbe da fare un ragionamento no? sì però probabilmente non saremmo italiani make sense make sense è vero perché poi alla fine un po' forse viene viene un po' meno quella capacità che poi potrebbe essere un bene perché potrebbe essere una svolta anche positiva però ce lo teniamo lì teniamocelo lì ma a me mi sembra bello raga che dito eh? ok ti faccio una domanda spontanea che non mi hanno suggerito come tipo come come scegli i tuoi collaboratori collaboratori oddio collaboratori è un tema molto complicato una volta avevo un approccio molto più diciamo opposto nel senso che dicevo sempre ai ragazzi tu hai chiesto di venire a lavorare qui giusto? sì quindi cos'è che vuoi da me? cos'è che vuoi? vuoi imparare? vuoi lavorare qui vedere capire eccetera sì bene non ti ho scelto io hai scelto tu di venire qua e quindi devi adeguarti devi cercare di andare d'accordo con tutti quelli che ci sono vedere pregi e difetti e cercare di migliorare i difetti e magari anche migliorare i pregi per cui sei tu che ti adatti all'ambiente all'ambiente non a me perché io non centro io non ho quelle veleità o quei capricci ti devi adattare alla brigata alla squadra al team e quella è la cosa più importante e oggi ho un po' cambiato poi c'è scusami c'è Luca che fa tutta la parte più importante della selezione io do un occhio però cerco di entrare il meno possibile perché vorrei che lo facesse lui per tutti e che poi diventasse anche un metodo che è l'arte di delegare che è un'arte difficile da imparare difficilissima che però bisogna imparare e soprattutto un po' per dare fiducia a chi lavora con te e soprattutto per tirare fuori anche eventuali opportunità e capacità ma anche per scaricarti da alcuni impegni per portare avanti progetti nuovi ma noi siamo abituati a caricare in cucina ti carichi sempre il contrario in cucina se qualcuno va in difficoltà te lo prendi tu il carico ok e quindi aggiungi sempre e giri piuttosto fai una fatica incredibile però te lo prendi tu mentre è più giusto poi di fatto condividere e cercare di lavorare in profondità crescono tutti in maniera omogenea sì più che altro crescono tutti la cosa bella che quando tu vedi i ragazzi l'altra sera ho visto un ragazzo che ha lavorato quando aveva 18 anni da me in via Vitor Hugo tanti anni fa è stato il suo primo lavoro spaventatissimo eccetera e lui mi ha detto fa io se faccio questo mestiere lo devo grazie a te perché io sono venuto lì mi avete accolto è stato benissimo e oggi ha due ristoranti per cui la soddisfazione poi io insomma poi li perdi tante volte perché te li ritrovi dopo tanti tanti anni però ecco vedere che un ragazzo non è riuscito a crescere ad arrivare a fare quello che ha in mente quella è la cosa più bella sì è una bella soddisfazione credo bene io ringrazio Carlo Cracco per essere stato con noi a Wolf ci vediamo una prossima puntata di Wolf amici grazie a voi ciao grazie a voi grazie a voi